e all'inizio era impossibile vincere figa si trovava un brutto mamma mia però non capisco tecniche egitto e veda un po lei meno se ti inventi io ho sette minuti posso ancora di diga ma ha beh giusto allora alle 12 o muoio ma no alle 11 59 o muoio vinci mi dia almeno un minuto per salutare giusto non può pretendere di fare che cosa no non muore di più attenzione se la va a riscare così di prepotenza bisogna di piantare qualche hit è un palese tentativo di suicidio attenzione no ma ti allontano dalla se la gente che ferma aspettare io c'è dietro un altro misura ok gg per il blu della r andiamo legge no le girosfere ragazzi tre colpi di girosfera mi facevo da mappa mappa figa mi faccio andiamo ok 21 inside il motore grafico farà la gara di più io io spero di no perché sennò vuol dire essere deficiente nel senso perché sennò noi da play dobbiamo aspettare grossa la ps5 sennò non credo di nessuno sto gioco non vedo non vedo l'ora che esca gta 6 della distruzione delle costruzioni ah allora il discorso della 6 eh sì no allora il disco effettivamente il colpo di genio c'è cioè modificare la dinamica della distruzione rendere più realistica è il tempo è quello che manca in questo momento ed è geniale pensarci però però io dico sulla playstation 4 non mi lagava battlefield e battlefield utilizzava il frostbite e distruggeva tutto non mi ha mai laggato battlefield per dirvi quindi ora magari non non era la stessa cosa perché non si buildava e non c'erano strutture nuove in mappa però eravamo comunque dentro 12 contro 12 nel senso ma no ma il fatto è che tipo call of duty sti giochi qua si basano più sulla connessione sì esatto che uno ha quindi meno male se uno aveva connessione di merda laggava tutte queste cose assolutamente qua è proprio una questione di non so tutte queste robe è lagga a continuazione questo gioco è impressionante ehi boh a me non lagga io non non noto questa sì sì nemmeno cattivissimo ragazzi è spammone spammone cacchio di albero ok albero di sfrutto che lo può fare eh c'era sotto il pompa viola intanto se l'è fottuto lui mitraglia blu minchia lo spazio ok la fuga estrema nel corso d'acqua controcorrente è un altro tentativo di suicidio palese vai 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 è una bella posizione sì no non è messo male è solamente contro undici persone ma va bene vabbè attenzione tre minuti per la vittoria attenzione può farcela vado su 35 ma il tipo che non ha neanche idea di dove gli state sparando lei è atterrato un altro sopra buttalo giù buttalo giù ma lo va a restare forse hai sempre un tipo dietro di prima ricordati eh 1 sopra sinico caso lo mettiamo a giù adesso è solo non fai 140 colpi di scarpe potrebbe sparare fino a dopo domani sta provando di cazzo vai vai ammazza tutti e due ho chiamato anche adesso sì sì stava scendendo comunque un nuovo a prenderlo eccola eccola oh mio dio oh mio dio no 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 non avvicinarti perchè foto lì mazza no foto lì mazza no a quelli via di lato minchia bianca minchia bianca shieldino sono un po' troppi però non mi sembrano intelligentissimi si sono bravi spammare infatti stanno spammando si shieldini ancora ce la può fare ce la può fare medica ancora shieldini si stanno partendo tra di loro ma medica non ce l'ho fatto l'ho fatto ah la safe eh sì no bella 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 cazzo un altro ancora mazza gente sta ammazzando bianchissimo bella vabbè lol fatti il medica subito comunque attenzione melo v4 sta ammazzando tutti che partita eh è tornato pure full mazza e può anche può anche farsi lo shieldino bella 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 vabbè ah vado a scappare e adesso vediamo come chiuderà sarà vince la carico te lo dico eh domani dopo domani domani oggi no oggi non riesco forse riesco forse riesco forse riesco ecco lì ma non ha shieldini più di giro peccato a sinistra uno ti scende è solo è solo comunque gli altri stanno faccio allora sei full mazza eh di tutto quindi secondo me uno è giù e non è stata ammortita con il letto sono 3 v1 v1 mi sa può essere sembriva una cichina sono sulle gli altri eccolo c'è il cichino 1 v3 1 v3 eh sì no io non sto parlando bella giocata a non rpg loro bella 1 v2 complimenti va bene signori questa sera carico questo video posso già anticiparvelo incredibile incredibile mamma mia ragazzi grazie a tutti e tre buona domenica anche a voi buona domenica buon pranzo con la nonna grazie ciao ragazzi grazie ciao ciao va bene ragazzi allora grazie anche a tutti voi che oggi avete guardato questa live che finisce un pochettino prima complimenti a Melo che wow che giocata e che partita che ha fatto via